Ciao a tutti, ciao a tutti, bentornati al mio canale, siamo ancora qui con un altro tag, tag come si dice, insomma avete capito. Allora in questo tag mi ha targato, devo leggere perché con i nomi io favo un po' di casino, ho sempre fatto e quindi è bene che lega. Allora il nome del video tag si chiama Per colpa di chi? Parla di profumi, poi ideato da Antonella del canale Consigli di Antonella in collaborazione con Ombretta, del canale Ombretta, Carnigelli. Ho detto bene Ombretta perché? Allora a me mi ha taggato Ombretta, che ringrazio, grazie Ombretta. Ho detto che non mi attaccava nessuno, non mi attacca tutti, grazie, finché sono facile i tagli e le fossi, no io non sono buona. Allora domanda numero uno, un brand di profumi scoperti da chi? Allora un brand di profumi che io non conoscevo, eppure sono sempre stata da un amante di profumi, ma questo non lo conoscevo. L'ho conosciuto grazie a Patrizia del canale Mandorla Cioccolato e questo qui, Ayamala, Ayamala. Avevo già fatto vedere questo profumo, però appunto questo tag più o meno parla dei profumi che uno ha di già. Ho preso questo e un altro con la bottiglia dorata che c'ha tutti i petri lì dentro, del quale ne aveva parlato pure lei di quello. Profumi buonissimo, apertamente secondo me, prevalentemente invernale perché sono molto, come si può dire, prepotenti. Più che altro sono molto speziati, questo c'ha, io sento anche la rossa dentro. L'ho usato ma adesso non me lo ricordo perché l'ho usato quest'inverno e quindi non me lo ricordo. Comunque questo, io l'ho trovato sempre sul consiglio di lei, l'ho trovato su Amazon. Amazon? L'ho trovato? Non so che è almeno un dubbio, su Amazon o su Notino? Non lo ricordo, mi sembra su Amazon. Che infatti ne ha parlato anche ad un altro, sempre di questo brand qui, olioso, che mi sa che lo prendo perché hanno un costo molto accessibile, non ricordo bene, mi sembra sui 30-40 euro e sono profumi buoni. Questo è, guardo quanti ml. Dove c'è scritto? Qui. 75 ml. Il packaging è spettacolare, bellissimo. E quindi, Giamai, Hai Mala di... No, Signora di Hai Mala. Grazie, Patrizia, buonissimo. Questo brand dà delle satisfazioni, è grande perché è molto buono e non si può dirlo costo, però è abbastanza alla portata di mano un po' di tutti. Allora, è il tuo ultimo profumo acquistato perché lo hai visto da chi? Allora, ne ho già parlati, il mio ultimo profumo acquistato è stato lui e anche lui. Questo l'ho visto da Ciotolina, dal canale Ciotolina e questo l'ho visto dal canale di Carmen de Milk Coffee in 1973. E quindi sono i miei ultimi ultimi due profumi acquistati. L'avevo fatto vedere nell'ultimo mio video degli acquisti delle vacanze e devo lamentarli perché in effetti sono gli ultimi profumi che ho acquistato. questo è il Doce Gabbana e questo di Naturas. Questa lampada io non ci vedo niente. Aspettate che oscurisco un po' perché mi danno neanche la vista. Profumi buonissimi, buonissimi, buonissimi entrambe. Questo lo sto amando. Me lo sono data ieri sera e lo sto amando. Questo e lo, sicuramente me lo darò, penso, più di inverno perché ha dato noi alla mia collega al lavoro. E vabbè. Allora, profumo. Terza domanda. Il profumo rivelazione dell'estate 2019 grazie a chi? dell'estate, sì. Dell'estate rivelazione. Allora, posso dire rivelazione? Poi spesso dire quello. Perché io profumi non me le do, lo sapete. E quindi questo è un profumo che è apertamente estivo. Insomma, a me piace anche l'estate fresco, si sente molto sensore e quindi sapete che mi devo l'acqua profumata, non volevo essere ripetitiva, però se mi devo dare un profumo leggerino mi darei questo. Potrei darmi anche, potrei essere, può essere una rivelazione anche, è il Monoi. Però per me non è una rivelazione perché il Monoi è diversi estati che lo uso. Quindi questo è il primo anno, è la prima volta che l'ho, che l'ho. Quindi lui. Poi, quarta domanda. Qual è stato il primo profumo acquistato grazie a quale video? A chi? Mio primo profumo acquistato, perché per me ne ho acquistato tante la mia vita. Ma il primo profumo che ho acquistato da quando sono qui su YouTube, il primo, 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 primo è stato questi due qua. Io metto due perché sono profumi che magari ho comprato quasi insieme. Questo è alle mandorle e questo è questo alle mandorle di Sulmona di Essenza e questo è Black Orchide di Tom Ford. Sono i profumi che ho acquistato per primi, primi, primi da quando ho cominciato con il mio canale. Quindi questo l'ho usato tantissimo questo inverno, questo poco, prima di tutto perché costa un rene, ma poi anche perché l'ho usato, guardate, si vede che l'ho usato, però scintilinato perché, no che non costa, pure questo costicchia parecchio, ma questo di più. Però questo lo usavo tantissimo questo inverno perché è elegantissimo, ma questo lo amo. E grazie a chi l'ho conosciuto, chi è stata l'artefice che io spendesse tutti questi soldi per questi profumi, è stata la bellissima bionda del canale, Mr. Nellie. Ciao, ciao Mr. Nellie, perché se non me lo ricordo. Ciao, grazie, sono profumi buonissimi. Non so se lei mi guarda, non credo proprio, però insomma non lo so, speriamo che mi guardi. Io la guardo sempre. Domanda numero cinque. Da quale canale, gruppo, Facebook, eccetera eccetera, viene più ispirato per acquistare i profumi? Allora, ultimamente sto acquistando, di certo non di Facebook, non su Facebook, perché Facebook lo guardo pochissimo. Sto acquistando molto qua, su YouTube, perché io sono, l'ho sempre detto, fascimente influenzabile. Si dà un profumo, parlano benissimo, e diano le note, e sono note che entrano nel mio gusto. Vado a vedere quanto costa, vado a vedere se posso, una cosa o un'altra, però sicuramente lo vado a acquistare. Invece di andare a sentirlo, no, lo vado a acquistare. Difficilmente mi sbaglio, perché se le note sono quelle che entrano nelle mie corde, difficilmente mi sbaglio. E quindi, o almeno per ora non mi è mai successo. Ogni volta che ho preso un profumo, ho preso profumi che mi sono piaciuti. E andiamo avanti. E infatti, no, per esempio, l'ultima ispirazione mia che ho avuto, sempre qua su YouTube, è stata da lei, da lei, che lei ha parlato benissimo di questo. e lei, parlo di ciotolina, e sono andata assolutamente a prendermelo. Come Luana, del canale Via Topas, ha parlato sempre di un profumo che amo, che mi devo andare a comprare, e ancora non l'ho comprato, visto che è in offerta, me l'ha detto lei, è in offerta su notino. Allora, numero... domanda numero sei. Mi sembra che sto facendo un gran cazzino, però... Quale acqua profumata hai acquistato e grazie a chi? Allora, d'acqua profumata ce ne ho 3.000, quasi più di profumi, perché tantissime le ha portate la mia sorella dell'America, di... cio caldo. E di chi sa che mi calvan, delle... d'acqua profumata di... Dove l'ho detto? Non mi viene in mente, lo sapete voi, vi ho fatto vedere mille volte. E non mi viene in mente. Insomma, le avevo profumate, le uso tantissimo, e ne ho tantissime. Ma la ultima, ultima, che ho acquistato, proprio ieri, quando sono andata a fare la spesa, è stata questa. perché l'ho vista nel video che ha fatto Sara, del mondo di Sara. Ha parlato proprio di questa, io ce l'ho tutte quelle altre, ma lei ha parlato di questa, dove se la spruzzava, anzi me la spruzzo anch'io. Buona. E sono andata a comprarla. Quindi, questa è... Sì, acqua profumata, gelsomino e pepe rossa. È buonissima. Vedemi i capelli bellini, me le sono fatte, perché devo andare... La Peruzzi, la mia ginecologa. Allora, Peruzzi, devo fare anche pubblicità, perché lei mi guarda. Allora, domanda numero sette. Il profumo che più ti ha delusso, visto da chi? Allora, non lo portavo perché me lo sono scordata, ma ce n'è due che mi hanno delusso. Sono l'unici profumo che mi hanno delusso. Uno, lo sapete, dell'erbolaio che è Iris, perché ne parlavano in tutte le salsa, e io andavo a comprare due che ne parlavate tantissimo in quel tempo lì, quando avevo aperto il canale, che era Mandorla, e Iris. Mandorla, lo adoro, lo adoro all'infinito. Iris, se tocco in quell'altro video, mi ha delusa. Iris, veramente non mi piace, non mi piace, non mi piace, direi quasi che mi fa anche schifo. Non dico altro. Un altro profumo che... Iris non posso dire da chi, perché lo sentivo parlare di tutti, in tutte le salse, quindi... Un altro profumo che mi ha deluso tantissimo, tantissimo, ma mi ha deluso per la persistenza, che non dura niente. Tempo di darselo, uccide fuori di asa, e non c'è più niente, perché il profumo è buonissimo, il package è bellissimo, e lui... è lui... è lui. Io l'ho sentito parlare di Carmen, del canale Milk Coffee 1973, quando l'ho visto parlare, quando ho visto parlare di questo profumo, sono andata subito a ordinarlo su Amazon, è bellissimo il packaging, io ce l'ho sul mio comodino in camera, è stupendo, e anzi ce l'ho così, ce l'ho la scatola e il profumo davanti, così, sul mio comodino. Mi piacerà tantissimo prendere anche quell'altro, quel fiocco nero a poire, perché il packaging è bellissimo, il profumo, ahimè, perché è buonissimo. Penso che è uno dei profumi, a livello di profumazione, più buono che ho, però peccato che non dura niente, quindi per me è stata una delusione, perché se questo profumo fosse stato persistente, sarebbe stata la mia vita, perché è buonissimo, però non dura niente. E allora, la domanda numero 8, sono un po' un brana, la domanda numero 8, che non è una domanda, ma è tagga qualcuno, allora lo sapete che è un po' impossibile tagga qualcuno, perché ho sentito sempre qui sul tuo, c'è gente che i taggano, che le piacciono tanto, insomma una cosa o un'altra, io dico che, siccome è un tag molto semplicino, molto ligero, molto carino, è perché parla delle acquisti, della delusione, dell'acqua profumata, e soprattutto parla di chi ci ha consigliato di prenderlo, visto che questi canali servono anche a questo, a condividere i consigli, delle cose per non andare a spendere i nostri soldi, in vano o male, quindi è un video tag, che dà la possibilità, di poter ringraziare con lei, con lui, che ci ha fatto acquistare, delle cose buone, che ci ha fatto spendere i nostri soldini, in maniera, non sbagliata, e quindi trovo che sia un tag, molto carino, quindi io taggo tutti, 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 però voglio targare tre persone, che mi piacerebbe sentire la loro opinione, dei suoi profumi, e io taggo, Luana del canale, Gia Topax, taggo, Ciotolina, del canale Ciotolina, perché non mi ricordo il nome, scusami, e poi taggo, Patricia, del canale Mandorla Cioccolata, ok, non so se la Patricia mi guarda, però insomma io taggo Patricia, ah ok, va bene, un bacio a tutti, e alla prossima, se vi è piaciuto il mio video, pollicino, grazie, ciao, ciao, ciao,